Oggi è una giornata importante, oltre alla presentazione dei tre progetti, finalmente abbiamo avuto anche l'autorizzazione del vincolo della sovrintendenza per quanto riguarda la ripresa dei lavori del parco ex gasometro del Vomero. Speriamo che in tempo breve possiamo ridare a questa importante comunità del Vomero un verde che stanno attendendo da più di 20 anni. L'assessore al verde e alla salute Vincenzo Santagada fa il punto sui lavori per alcune delle aree verdi della città, anche in prospettiva delle attività che potranno essere finanziate col PNRR. Proprio oggi alle ore 14 scade questo progetto di riqualificazione dei parchi storici previsto all'interno del PNRR che prevede 190 milioni di euro, di questi almeno il 20% nelle regioni del sud. Noi abbiamo candidato tre siti che è il massimo numero candidabile, ovvero la villa comunale, il Virgiliano e il Masoleo di Posillivo per un importo di 2 milioni di euro per ogni sito. Quindi 6 milioni che si vanno ad aggiungere agli altri progetti finanziati dalla città metropolitana per quanto riguarda la villa comunale e il Virgiliano. A fuori grotta sono stati ultimati i lavori su alcune strade principali. Abbiamo completato via Le Giulio Cesare, via Diocleziano e via Le Kennedy, stamattina abbiamo aperto un nuovo cantiere, via Consalvo, piazza Italia e piazza San Vitale. Quindi è un percorso che stiamo continuando e che vogliamo dare un verde nuovo alla città ma soprattutto una città più verde e più pulita. Stamattina abbiamo cominciato anche la potatura per quanto riguarda tutti i platini, la filiera dei platini su via Caraccio, la diacente alla villa comunale. Dal sito web del Comune di Napoli è possibile seguire le attività che riguardano il verde cittadino. A due giorni è attivo sul sito istituzionale del Comune di Napoli una mappa geo-referenziata che permette ai cittadini in qualsiasi momento di visionare tutti gli interventi fatti da 1 gennaio per quanto riguarda la riqualificazione del verde orizzontale. Lo si può vedere in modo interattivo sia per municipalità o tutte le municipalità e possono essere visionati anche per mese. Ad oggi abbiamo fatto 72 interventi dal 1 gennaio che è un numero rilevante. La cosa più interessante è che cliccando sull'icona relativa al sito bonificato si può visionare la scheda di lavorazione nel momento in cui sono arrivati gli operatori e nel momento in cui è stata completata la bonifica. Abbiamo dotato i giardinieri di un telefonino e di un'app e loro in modo automatico caricano i dati. E' un esempio di accountability e di rasparenza che il Comune di Napoli ha voluto dare a tutti i cittadini. Grazie a tutti.